Il Bari di Torrente punta sempre più sui giovani. Gli ultimi arrivati nella rosa e bianco-rossa sono il difensore laterale Alessandro Crescenzi, il difensore centrale Simone Sini e il centrocampista rumeno Adrian Marius Stoian. Tutti di proprietà della Roma hanno già sordito in Serie A e sono tutti e tre nazionali Under 21. Sini, il più giovane, ha debutato nella recentissima partita contro la Svizzera. Nonostante non abbiano più di vent'anni, hanno già accumulato una discreta esperienza e sono venuti a Bari, seppur in prestito, per fare un campionato importante. Il più interessante è Crescenzi, che dopo aver esordito con la Roma in A da appena 17 anni ha disputato due stagioni in B, a Grosseto, con sei presenze, l'anno scorso a Crotone, dove era titolare. Quest'anno è un bellissimo campionato di Serie B, sono venuto qui a Bari in una società stupenda, una società di Serie A e sicuramente le ambizioni sono quelle di ritornare in Serie Italia. Non ho avuto modo ancora di conoscere bene il gruppo e tutto, però mi hanno parlato bene, mi ha parlato bene anche Stojan, che è un gruppo molto affiatato e quindi si possono sperare in bene. Sini l'anno scorso cominciò il campionato di Serie A a Lecce, giocando titolare nella prima sfida persa per 4-0 contro il Milan. Poi solo scampoli di partita, complice un infortunio, ma a Bari vuole rifarsi. Sono un difensore centrale, mancino, a cui piace molto giocare la palla. L'anno scorso ho avuto poca possibilità di giocare, speriamo che quest'anno ce n'ho molta di più e farò vedere il mio valore veramente quest'anno. Stojan, cresciuto alla scuola di Gheorghe Popescu, esordito in A addirittura nel 2008 contro la Juventus. L'anno scorso è stato a Pescara. Sa uno che piace divertirsi in campo a combattere per la sua squadra e di non mollare per 90-95 minuti.